Ragazzi, oggi facciamo qualcosa che non l'abbiamo mai fatto prima. Mi chiedete spesso di fare qualcosa di diverso, di spaziare, no? Di fare qualcosa ogni tanto oltre Call of Duty. E oggi ho deciso di accontentarvi perché giocheremo con lui l'Oculus Quest. Mi sono infatti procurato questo visore, ragazzi, perché era da un po' che volevo fare qualche video un po' particolare. E questo è quello di cui avevo bisogno per fare questo video un po' particolare. Innanzitutto, come vedete, non sono in camera mia, sono nello scantinato di casa mia, quindi è tutto una merda dietro, ma non è un posto dove si vive normalmente. Uno scantinato, quindi c'è roba accatastata a caso. E niente, quello che faremo oggi, ragazzi, sarà giocare a un gioco che sicuramente conoscerete perché è famosissimo. Si chiama Super Hot ed è praticamente un gioco di... un gioco arcade, no? Dove praticamente devi sopravvivere contro gruppi di nemici che tentano di ucciderti e tu, arlentatore, devi cercare di salvarti, disarmandoli, uccidendoli, insomma, un po' di robe. Faremo qualche livello, diciamo che io ho già giocato, quindi partiremo da un livello che è quello che ho raggiunto io e giocheremo un pochettino a caso. Queste sono le mie mani, appunto, io le vedo in maniera impressionante, cioè sembrano letteralmente le mie, veramente, e sono fermo a un livello. Nel momento in cui io prendo questo oggetto qua, che vedete qui, il livello inizia. I livelli iniziano tutti così, nel senso, sono una serie di sfide, una dopo l'altra. Se fallisci, rinizi dal capo dalla prima sfida, finché non le fai tutte di fila senza fallire. Questa qua è la prima delle tante sfide per completare questo livello. Ed è un livello a caso che io ho raggiunto, quindi questa cosa qua cos'è una pinzatrice, io la piglio ora. Vedi, devo cercare di... Mi hanno ucciso subito. Quello che devo cercare di fare è uccidere questo stronzo qua davanti. Tirando di qualcosa in faccia e mi continua a colpire, mannaggia tuo padre. Ok. In momento in cui lo killo, piglio l'arma. Questo livello io l'ho già iniziato prima, non l'ho finito. Ok. E mo' si rinizia. C'è uno stronzo qui. Ok. Il problema è che è tutto velocissimo, cioè devi essere una scheggia per riuscire praticamente a... Dammi sta cazzo di pistola figlio di puttana per riuscire... Io ho paura di sbattere addosso a qualcosa ragazzi, cosa che mi spaventa di più rompere qualcosa. Qua tipo sto toccando qualcosa, ho sentito duro con le mani ragazzi, cosa è stato... Oddio no! Ho finito i colpi, non ho più nulla, gli tiro... Niente, in questi casi non puoi fare più nulla, cioè devi soltanto aspettare che praticamente lui si avvicini. Se si avvicina lo disarmiamo. A questo punto dove sono io? Nel senso... Ok, la videocamera è lì, perfetto. No, perché la cosa strana è che io probabilmente darò le spalle alla videocamera. Ok, avvicinati, però qua è duro. Sto toccando il muro ragazzi, ok. Disarmato, via, fuori al cazzo. Oddio! No, ho fallito. Vedi, è tutto velocissimo, mo' si inizia da capo. Ok, perfetto. Non riesco! Non è possibile. Ok, ottimo. Fa' un culo pezzi di merda, mo'. C'è qualcun altro? No? Oh, cazzo. No, vabbè, ragazzi. E come li ammazzo, mo' sti qua? Merda, un po' un po'. Non ho più colpi. Non ho più nulla. Dove cazzo sono vite le vie? Sono disarmato. Eh, mo' arriva qui, lo disarmo. Vieni qui, rotto in culo. Vieni. Fammi st'arma. Ok, ok. E mo' oh, cazzo. Fammi questa cazzo di roba. No, no, ho fallito. Devo riniziare. Non me l'aspettavo. Questa missione è tosta, eh, di nuovo. Questo lo colpisco, forse. Oh, è easy questa qua, easy. Dammi. Merda, merda. God. God, non l'abbiamo fatta. E mo'? Mostra la tua dedizione. Guarda in basso. Oh, merda, ragazzi, vi giuro. Vi giuro, fa stra paura sta roba. Porco due. No, ragazzi, ve lo giuro. Merda. E mo'? No, mi devo buttare? Cioè, ho paura. Ci credete che mi mette ansia questa cosa? Non riesco ad andare avanti? Mi sembra... Addio. E mo'? Mio Dio. Ve lo giuro, dà un senso di... No, vabbè, aspetta. Ci dà un senso di ansia incredibile questa cosa. Ok, ho finito il livello. L'ho finito. Queste missioni che ho fatto erano per completare questo livello dall'inizio. Che è un livello a caso, ripeto. Questa qua è appunto il menu principale. I livelli li avvii prendendo questi dischi qua e poi infilandoli lì. Vi giuro, voi venderete una cosa di merda, tipo un quadrato, quindi non vi renderete conto. Ma vi assicuro che giocarlo mette un'ansia pazzesca. Pazzesco proprio, ragazzi. Follia, questa cosa è... Cioè, è fatto troppo bene. Cioè, incredibile. Voi adesso ovviamente vedrete sta roba qua. Lo vedrete chiaramente al PC e non renderà bene con l'effetto. Ma io vi assicuro che per me, tipo, guardare queste mani che sto guardando ora. Impressionante, perché sono veramente dove io mi aspetterei di vedere le mie mani in questo momento. E sono fatte benissimo. Vabbè, iniziamo l'altro livello, ragazzi. Facciamo un altro livello e basta. Ok, ci mettiamo il casco. Sono messo bene? Ok, sì. E mo'? Cos'è sta roba? Cosa cazzo è sta roba? Cosa sono queste cose qua? Cosa cazzo è successo? Fuori di testa. Non sto capendo quello che sto facendo. Ma cosa, cosa, cosa... Ah, devo tenere premuto. Cos'è sta roba? Cos'è un superpotere, tipo? Prova ancora. Questo gli abbiamo un cazzato così a caso. Ma che cazzo? Cos'è sta roba? Non riesco a capire, è un superpotere, qualche cazzata così, ma... Oh, ma non mi piace sta roba qua, sicuramente. Non capisco quale... Ti sei qua. Non capisco quale il senso. Andiamo avanti. Oh, cazzo. Oh, cazzo. È tipo un supereroe in questo momento. Ok, si ritorna a sparare finalmente. Merda. Eh, vaffanculo. Questo lo becca in teoria. Lo becca? Sì? E poi dobbiamo alzare sto poione qua. Sono tipo un supereroe. Porca troia, ho colpito una scatola. Come on? Ok, questo è morto. Dammi l'arma, dammi l'arma. Dammi l'arma. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. È morto. È morto, è morto. Ok, perfetto. Altro livello. Ok, godo. È morto? È morto? Oddio. Mi hanno eliminato. Non ci credo. Super godo. Ce l'abbiamo fatta. Che fatica. Non è ancora finita, raga. No, vabbè. Non è ancora finito il livello. Non ho più nulla. È questa. Godo, ho eliminato. Questi erano scarsi. L'ho missato. Super potere. Seccato, via. No, mi ha preso in pieno. Occhio, ho la testa. Bellissimo sta roba qua. Ok, easy. Uh, uh. Uh. Quanta gente. Quanta gente. Non ho più colpi. No, ragazzi. Non ho molto. No. È difficilissimo. Non mi dà l'arma. Non l'ho persa. Merda, merda. No. No. Elmo. No, è pieno. Cosa faccio? No, vabbè. Erano troppi, raga. No, armi. Che devo fare, raga? Sto studiando come un maiale. Non lo piglia. È mo' che crezzo faccio. Dammi questi, dammi questi. Uh, ce l'abbiamo fatta. Godo. Godo. Non è finita però, mi sa. Due colpi di ascente così a caso. Cosa? Cosa cazzo? Ok. Merda. Eh, cazzo. Ok. Ok. Andiamo avanti. Dentro un aereo siamo in questo momento. Ok. Qualcuno dietro, no? Un'arma. Godo. Uh. Non finisce più, raga. Non finisce più. Finito. Sì. Sto sudando, non so da quante ore sto giocando. Non ho idea, forse tipo un'ora. Mamma mia, raga. Uff. Sono di spalle, tra l'altro, mo'. Perché il gioco ti fa tutto girare. Raga. Io direi che questo video può finire qui. Ci siamo riusciti a superare ben due livelli. È abbastanza complicato, comunque, secondo me. Non è facile, come sembra. Ma ogni modo, fatemi sapere se volete vedere più avanti altri video di questo gioco. Io vi darò lasciare un bel like. Qui da Velox è tutto, ragazzi. Bella. Ciao.